no vabbè l'unica tra le dieci carte ma certo è così ciao ragazzi e bentornati sul canale oggi come vedete torno con Giussi e soprattutto torno il nostro caro divano giallo perché siamo in Sicilia arriveranno dei contenuti davvero interessanti per il canale molto probabilmente uscirà la terza stagione di Good Magic Seasony quindi ritorneranno i video con Alessio Monte e Alfredo Gire e in questo caso oggi sono qui per fare una magia che anticiperà appunto così i nuovi contenuti quindi adesso farò una magia molto semplice ma puoi vedere con solamente dieci carte però prima di passare alla performance e quindi vedrai questa magia e vedrete anche voi poi la spiegazione mi raccomando iscrivetevi al canale quindi perdete un attimo di tempo controllate se siete iscritti o meno perché la statistica è davvero altissima guardano i video senza iscriversi quindi adesso per punizione vi iscrivete anche al mio canale ecco vi iscrivete sia al mio che al suo vabbè vanno alle ciance se vi fa piacere diciamo che per noi è davvero molto molto importante ma adesso vediamo un po' cosa vedremo qui allora Giussi come vediamo qui semplicemente dici carte quindi sarà una magia abbastanza rapida e dovrai selezionare una carta che ti ispira qualcosa ok quindi scegli tu liberamente una carta questa cinque? sì ok ti chiedi potevi scegliere un jack un re un asso ok cinque mi ha stupito un po' questa scelta ma tu sapevi già qualcosa secondo me perché il segreto di questo gioco sta nei dorsi come vedi sto utilizzando delle carte bellissime che sono le Raven in questo caso color rosso e devi sapere che potevi selezionare una di queste carte ma hai scelto esattamente quella con il dorso bruno no vabbè l'unica tra le dici carte mi ha scelto così ma adesso vediamo un po' come fare questa magia come replicarla perché è davvero molto interessante si può fare sia con lo spettatore che non quindi una magia anche utile per i social nel frattempo stai lavorando per capire un po' iscrivetevi al mio canale iscrivetevi al suo canale mi raccomando e noi passiamo al tutorial quindi ringrazio Giussi vabbè alla prossima ok ragazzi passiamo al tutorial di questa magia allora tutto quello che dovete fare ovviamente è avere due mazzi di carte in questo caso sto utilizzando le Raven con questo bellissimo colore rosso bellissime e le Orbit Tellio quindi delle carte che ultimamente sto utilizzando davvero tantissimo mi piacciono particolarmente e ve le straconsiglio ovviamente su lo store mymagic.it potete trovare mazzi di carte, effetti in vendita, dvd chi più ne ha più ne mette al prezzo più basso d'Italia se non d'Europa inoltre utilizzando il codice sconto alle magics oltre al 10% di sconto avrete anche un effetto di magia professionale incluso per il vostro ordine oltre che darete anche un piccolo caffè diciamo al sottoscritto quindi vi consiglio il codice alle magics allora il segreto di questo gioco è davvero semplicissimo quindi come visto in performance lo spettatore sceglierà una carta qualsiasi da questo mazzettino di 10 carte e sarà l'unica dal dorso diverso beh dovete sapere che la scelta dello spettatore era davvero libera quindi poteva selezionare una carta qualsiasi quindi che sia la prima, che sia l'ultima, che sia dal centro insomma che sia rossa, che sia nera nessun tipo di differenza l'unica cosa è questa che il mazzo di carte è intersecato con appunto le carte delle orbit e le carte delle raven quindi una e una, una e una quindi quando faremo selezionare una carta del nostro spettatore per esempio il 5 di cuori non dobbiamo fare altro che invertire il mazzetto che prima stava in cima con quello che sta in fondo quindi non dobbiamo nemmeno ricordarci l'ordine di queste carte perché il tutto sarà in automatico quindi una magia molto interessante anche per questo tutto quello che dovete fare adesso è non svelare subito il segreto ovvero che appunto abbiamo delle carte di raven oppure le carte blu ma semplicemente che mostriamo queste carte come se appunto avessero dei segreti nei dorsi quindi semplicemente anticipiamo allo spettatore che queste carte sono per esempio le raven sono davvero bellissime e ovviamente mostrandole facciamo vedere anche che le carte sono tutte uguali nei dorsi e la cosa interessante è che lo spettatore vedrà sempre questa carta quindi sfiliamo la prima le giriamo così di dorso poi posiamo queste, posiamo questa nuovamente adesso qui sono due carte quindi rimane l'ultima che sarà ovviamente ancora quella che ha sempre visto quindi una carta rossa beh devi sapere una cosa come hai visto i dorsi sono particolari sono rossi, hanno questa trama nello specifico ma devi sapere una cosa che sei riuscito tra dieci carte a scegliere esattamente una carta particolare sarà senza sensazione sarà insomma lì giocata un po' come piace a voi la presentazione ma lo spettatore avrà selezionato appunto l'unica carta di colore blu quindi come hai visto una magia davvero super interessante rapida e possiamo passare al tavolo successivo quindi faccio rivedere le carte sono tutte intrecciate rossa e blu lo spettatore sceglierà una carta qualsiasi per esempio il jack di quadri quello che faremo noi sarà portare la parte che era in fondo in cima quindi adesso vi do una piccola chicca se poi volete per esempio proseguire appunto la magia nei tavoli successivi senza dover modificare il mazzo vediamo un po' come farlo dovete fare sempre i stessi movimenti per esempio sfiliamo ovviamente la prima carta rossa rossa destra sinistra rossa rossa destra sinistra rossa rossa destra sinistra rossa rossa destra sinistra poi per finire rossa e questa sarà l'unica blu quindi poi per riproseguire con il tavolo successivo semplicemente mettiamo questa in cima e come potete notare adesso le carte sono nuovamente intersecate blu rossa blu rossa eccetera eccetera pronti per stupire il tavolo successivo e quindi non dover poi manomettere il mazzo è scondato dirvi ma ve lo dico lo stesso evitate di rifare lo stesso gioco allo stesso spettatore perché altrimenti poi vi chiederà di controllare il mazzo quindi semplicemente utilizzate questa routine all'interno della vostra quindi personalizzate la vostra routine con questa magia per poi magari utilizzarla per un altro gioco dove avrete bisogno del mazzo intersecato quindi fate la magia ok perfetto il spettatore è stupito passa dal tavolo successivo oppure utilizzate un altro gioco poi ovviamente voi siete liberi di fare quello che volete se volete rifare lo stesso gioco allo spettatore potete farlo fate molta attenzione e ovviamente se vi prenderà il mazzo di carte verrete scoperti quindi la presentazione come sempre è importantissima se volete prendervi questo rischio fatelo pure però mi raccomando io vi ho avvisati mai sottovalutare lo spettatore perché poi altrimenti anziché un gioco di magia diventa una sfida è meglio evitare le sfide detto questo ragazzi la magia termina qui come avete visto davvero molto interessante e adesso direi che mi sono già dilungato abbastanza noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi tutti quanti ciao 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 Grazie a tutti.